I podcast di LCN Sport Buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio lecco day by day martedì 3 ottobre 2023, come di consueto al martedì ci ritroviamo dopo aver partecipato tutti insieme in tanti in tanti devo dire avete partecipato alla puntata di lunedì 2 ottobre del blu il celeste, la passione di una vita ovvero il claim della nostra trasmissione che ormai tra vecchio nome, tra nuovo nome, vecchio nuovo format insomma anche le tante persone che sono passate di qua ormai iniziata il 2009 a novembre compirà i suoi bei 14 anni quindi insomma siamo veramente tanti ormai come anni passati davanti a quel microfono ma al di là di questo piccolo momento a barcord dobbiamo stare concentrati, molto concentrati sul presente perché il lecco chiaramente è in questa fase delicata delicata della sua stagione ed era anche abbastanza lecito attendersi che quest'annata sarebbe partita sotto un certo tipo di auspicio non particolarmente felice, ce lo potevamo tranquillamente aspettare insomma l'estate che ci hanno fatto attraversare è stata oltremodo complessa oltremodo farraginosa a livello di tempistiche montagne russe assolutamente dettate da tempistiche che non erano neanche nostre perché poi alla fine ha rispettato i tempi degli altri i tempi della giustizia sportiva, della giustizia ordinaria e quindi fino alla tarda mattinata del 30 agosto 2023 non ha conosciuto la propria categoria di appartenenza questo vuol dire essere partiti tardi aver fatto un mercato alla bella e meglio essere anche arrivati all'accordo con il direttore sportivo come Domenico Fracchialla solo e solamente dopo la sentenza del TAR che ecco diciamo questa si ha fatto completamente pendere la bilancia dalla parte blu celeste che poi c'è stato il passaggio al Consiglio di Stato però poi al di là della strizza che è un sentimento vuol dire umano giustificato e logico quando è arrivata il 29-30 di agosto però sapevamo razionalmente che salvo salvo cose clamorose non sarebbe cambiato il panorama e così è successo per il Lecco per la Reggina, per il Brescia, il Foggia, il Perugia chi più ne ha più ne mette insomma anche senza andare a scomodare le altre categorie e le altre squadre tante coinvolte però comunque fino ad agosto inoltrato e molto inoltrato anche per alcune operazioni l'Ecco non ha potuto operare detto ciò dal 30 di agosto è passato anche più di un mese quindi ci sono dei fattori di cui è giusto tener conto e sicuramente l'Ecco ha ancora tanto terreno da dover recuperare perché l'Iunite, Marrone e via dicendo sono arrivati tardi però c'è anche da dire che sul piano del gioco l'Ecco era non facilmente pronosticabile a questo livello comunque l'Ecco gioca un calcio anche gradevole riesce a farlo per un tempo limitato questo è sicuramente dettato da una condizione fisica che non può essere ottimale per tutti perché ci sono stati infortuni perché ci sono stati appunto arrivi in forte ritardo arrivi in ritardo da parte di chi oggi è anche titolare e quindi ci sono tutte queste situazioni che non sono così semplici da andare a risolvere in un periodo di tempo che rimane comunque breve ci sono giocatori dalla massa fisica la massa muscolare è abbastanza importante tant'è che ovviamente hanno bisogno di più di un mese di tempo per entrare pienamente in forma detto ciò che l'Ecco sape esprimere un calcio comunque di questo buon livello per un'ora abbondante è e rimane, questo dicevo anche ieri un fattore positivo di cui bisogna per forza di cose tenere al conto punto e virgola perché poi c'è il resto c'è il resto che devi avere tu come giocatore addosso e questa è insomma la fame concentrazione livello di attenzione consapevolezza di poter portare a casa questi punti perché poi quando si va a affrontare la squadra come il cittadello che è maestra a fare alcune cose bisogna sempre ricordarsi che di fronte l'Ecco è la gente che per la gran parte ha fatto la Serie C o l'anno scorso o fino a otto mesi fa io mi riferisco a ma tu c'è il retrocesso con Montevarchi che oggi gioca titolare in Serie B non fa neanche male con l'Ecco non una grande partita ma in precedenza anche delle ottime prestazioni Pittarello, Magrassi, Maestrello tutta gente pescata dalla categoria inferiore Carissone l'Ecco l'ha scartato qualche anno fa dopo il primo periodo di D'Agostino giusto per ricordarci certe cose Angeli si giocava contro l'anno scorso poi ha fatto anni arenate fatti bene però con quel C e poi vabbè potremmo proseguire e narrare tante carriere che veramente sono passate dalla Serie C per quanto riguarda il Cittadella quasi tutte e quindi dov'è la verità? La verità è che che arriva a un punto in cui la tua categoria di provenienza fa veramente poco testo fa veramente poco testo perché comunque la Serie B rimane un campionato che principalmente così come la C si gioca sull'agonismo chiaramente c'è più tecnica e fin qui siamo tutti d'accordo però è anche vero che di giocatori di grande qualità ce ne sono in numero tutto sommato limitato e fino a questo momento tra l'altro ho trovato squadre che sono strutturate organizzate ma che comunque non sono state imbatibili ma vale anche per il Catanzaro che ha preso una rumba incredibile col Parma che è una squadra nettamente a mio parere più forte delle altre e lo sta dimostrando sul campo almeno fino a questo momento poi però se solo valori tecnici avessero veramente tutta questa importanza la Sondoria non starebbe accusando tutti questi problemi penso siete d'accordo con me su questo argomento la Sondoria è una squadra che ha dei giocatori di tecnica ma che non trova la quadra e quindi cosa dobbiamo dire che la squadra della Sondoria è formata da giocatori che vanno bene giusto giusto per la serie C credo che nessuno venga a dire questa cosa per quanto riguarda l'Eco io non credo che gente come Novakovic gente come Ionita come Crociata come Marrone e come anche altri elementi sia buona solo per la C parliamo di niente che ha fatto la serie A l'ha fatta per anni l'ha fatta bene l'ha fatto bene la serie B è Crociata prima di venire l'Eco a Cittadella ha fatto sei mesi da top player della serie B e oggi l'Eco fa fatica ad andare oltre la sufficienza quando arriva alla sufficienza quindi cosa vuol dire vuol dire che chiaramente non si può additare tutto siamo partiti tardi c'è una condizione fisica non ottimale questo questo e quell'altro l'abbiamo detto anche ieri evidentemente l'Eco si è mostrato a un certo livello col Catanzaro si è mostrato un livello superiore con il Brescia pur portando a casa zero punti in queste due partite poi è rimasto a quel livello lì però ma proprio parlando non tanto di qualità del gioco perché poi appunto come abbiamo detto col Cittadella è arrivata una partita importante dal punto di vista della qualità del gioco espresso dal punto di vista della tenuta mentale sul lungo periodo se andiamo a vedere tutte queste partite sono state condizionate da gravi errori individuali con il Catanzaro praticamente in tutti e quattro i gol con il Brescia due rigori sbagliati l'errore di Battistini nel finale col Modena invece si è arrivati a 1-0-0 con la Ferral-Pisalò anche in questo caso errori individuali e poi anche con la Cittadella ci sono stati degli errori individuali che poi non sono insomma stati sanati a livello di gruppo e anche qui se vogliamo è la differenza rispetto alla passata annata in cui è stato fatto un miracolo sportivo ma come è stato fatto? è stato fatto anche andando a sanare l'errore individuale che fa parte del gioco quando si gioca in 11 con la compartecipazione del compagno di squadra quante volte abbiamo visto Battistini mettere le pezze magari alle sbavature di Celia Conrici tantissime e Milgrati mettere le pezze alle poche in realtà da un certo momento in avanti sbavature dei suoi tre difensori lì davanti quante volte abbiamo visto Galli andare a coprire dietro i buchi lasciati per l'esuberanza da parte di Zuccon e di Girelli sono tutte cose che in una squadra che funziona succedono essendo proprio gioco di squadra è un lavoro di equilibrio è un lavoro comune in questo momento l'eco sta un po' mancando come lavoro comune voglio dire se uno parli della marcatura ci può stare anche non ci sia insomma la fortuna che ti dà una mano questo ok però magari non c'è il raddoppio di marcatura che ti può aiutare che ti può insomma venire in soccorso mancano queste alchimie questi anche automatismi che permettono di capire quando si sta per materializzare un errore da parte di un compagno sono cose che indubbiamente verranno col tempo perché l'eco comunque ha cambiato tanti giocatori giovani o meno giovani però io credo che in questo momento vada fatta anche una certa chiarezza a livello gerarchico interno alla rosa dispiace un po' dispiacere per tutti i giocatori che poi si troveranno esclusi da questo però bisogna anche scegliere una rosa abbastanza ristretta di giocatori a mio parere cui insomma affidarsi e affidarsi in questo momento di difficoltà per appunto creare anche delle gerarchie interne perché dopo cinque giornate delle gerarchie secondo me vanno anche fissate per impostare una certa rotta e tenerla quanto più dritta possibile detto ciò c'è un altro tema evidentemente caldo forte di giornate ed è quello legato a mister Luciano Foschi ovviamente avete seguito ieri le cene sport ma non abbiamo parlato solo noi di come sia stata accordata questa fiducia a tempo che tra l'altro noi avevamo già definito così dopo l'eccoferal pisalò la posizione di Foschi già traballava evidentemente dopo cittadella traballa di più siamo al dunque dopo cittadella si tireranno le somme avevo detto di fatto è così seppur parzialmente perché quando tu dici pur non avendolo fatto pubblicamente all'alevatore viene concesso ancora a quest'ultima occasione in quartuo forse la decisione l'hai già presa e quindi possono essere solo cose veramente forti e importanti a potertela far cambiare questo parere l'abbiamo già espresso concedere fiducia a tempo a senso ma fino a un certo punto perché quando dai fiducia a tempo tu come dicevo poco fa hai già almeno parzialmente sconfessato quello che è il progetto tecnico questo è il nostro modo di vedere la cosa perché in questi anni quando è stata concessa fiducia a tempo agli allenatori Gaburro Zironelli giusto per dirne due ma alla fine poi l'esonio era arrivato di Riff di Rafa per motivi più o meno logici l'esonio era arrivato punto perché era già stato messo dall'ordine delle cose se qualcuno mi viene a dire l'eco non sta già scegliendo il sostituto di Foschi o non lo sta quantomeno individuando a mio parere dice una bugia non ci credo che tu vai a dare comunque una sorta di ultimatum all'allenatore senza avere un'alternativa a cui affidare la panchina per le due settimane che poi ti separerebbero eventualmente da Cosenza l'eco l'eco ascoli con la vasa nazionale in mezzo io a questo credo veramente poco credo che l'eco stia preparando il piano B e da un certo punto di vista anche per fortuna perché comunque se poi devi arrivare a queste decisioni che vengono sempre estreme perché poi il suo sondero di un allenatore è sempre una decisione estrema e un fallimento per tutto l'ambiente di una società ecco che devi comunque arrivare a attivare un piano B nel minor breve nel minor tempo possibile questo è evidente Foschi ovviamente non ha non avrà tutte le colpe come non avrà eventualmente tutti i meriti nel caso di una risalita repentina della classifica è evidente che quando si parla di lavoro di squadra se l'ho detto 5 minuti fa non posso sconfessarmi ci sono colpe e meriti di tutti se le cose vanno le cose non vanno aveva i suoi meriti l'anno scorso le sue colpe quest'anno da questo meccanismo non si può trascendere se si arriverà all'esonero le colpe saranno da dividere anche eccezionalmente in questo caso su fattori esterni però comunque verso errori che ci sono per la società perché alla fine poi il Brescia che è squadra retrocessa ricordo è stata riammessa e sta andando comunque bene in questo campionato più pronta sì però comunque la spada di Damocle l'ha avuta in ogni caso fino al 30 di agosto però comunque è partita ha fatto i suoi punti sfruttando la voglia di rivalza di chi era retrocesso l'anno scorso mi viene da dire e comunque facendo anche del mercato investendo delle risorse importanti perché comunque gente come Biarnas non è così non è che arriva esattamente così per farti un favore ci sono delle risorse importanti da investire vedremo quali saranno i prossimi passi ecco ieri ha già ricominciato ad allenarsi alla mattina quindi per forza di cose si lavora in maniera intensa perché questo bisogna fare comunque sul campo mi risulta anche di insomma di un confronto anche abbastanza acceso ma va bene che sia così interno alla sede di Via Don Pozzi perché al momento chiede anche dei confronti che siano schieti anche se c'è a fare qualche volare qualche tavolo io non sono voglio dire uno di quelli che si scandalizza anzi lo vedo come una cosa positiva perché se c'è un sentimento negativo è perché questo deriva da una situazione negativa se uno vive tranquillamente una situazione negativa ecco proprio non ha molto amore rispetto a quello che sta facendo quindi se uno si incazza in una situazione negativa vuol dire che le cose hanno ancora un loro senso logico vedremo dicevo quali saranno i prossimi passi che appunto ormai direi che non ci porteranno verso soluzioni estreme prima della trasferta del Marulla che comunque rimarrà assolutamente complessa perché cos'entra squadra che sta benissimo a grande entusiasmo e eventualmente siamo qui pronti a captare quali possono essere le idee della società in caso di cambio di scelta di cambio sulla panchina che è molto molto vicina alla curva nord dello stadio Enrico Monticeppi di Lecco buona giornata a tutti forza Lecco sempre di Lecco di Lecco di Lecco Grazie a tutti